temprano è pronto sì è pronto è pronto bene tu e di solito inizi con un caffè con un tè con un cappuccino non lo so la mattina ecco un caffè come come lo prendi questo caffè no perché noi italiani siamo molto per l'espresso no sai il famoso espresso italiano no è un caffè con con lecce con latte esatto esatto ecco poi anche qui entriamo in mille termini noi mille tipi c'è un caffè macchiato un latte macchiato un cappuccino moccaccino incontriamo in mille caffè con latte punto caffè latte in italiano bene bene ecco come hai passato questo weekend ecco non ho fatto molto molte cose sì ma ho trovato una persona che vuole affittare mio appartamento quindi scriveremo oggi un contratto come si dice contratto uguale scriveremo forse è meglio dire firmare perché scrivere significa che scrivete proprio un contratto da zero ecco scrivere un contratto è scrivere puoi dire firmare o forse hai sentito sottoscrivere un contratto hai sentito è un termine un po particolare non si usa molto in italia ma sottoscrivere un contratto è firmare un contratto è la stessa cosa quindi ecco firmare un contratto è più comune ecco firmare un contratto sì però sì no nel futuro oggi firmeremo 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 noi firmeremo o puoi anche dire noi firmiamo un contratto oggi ecco puoi anche usare il presente perché un'azione che è molto breve c'è nel senso che è corta nel tempo non c'è una distanza di giorni mesi anni ecco è oggi quindi firmiamo oggi bene bene quindi ecco in italia si usa molto il contratto con le agenzie immobiliari per esempio ecco il vostro è tra privati o tra agenzie il contratto è solo che è una cosa che ho ho scritto come ho scritto dove mia signatura e la signatura come si dice altra persona la mia firma firmare e la firma è il sostantivo la mia firma e la sua firma la stessa pagina quindi diciamo una cosa tra privati non è non c'è un'agenzia in mezzo a voi esatto no sì sì bene io non ho mai fatto un contratto di sub affitto ho sempre fatto un contratto di affitto ma di sub affitto da un privato non l'ho mai fatto ecco cambia molto o è la stessa cosa alla fine? sì 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 ho fatto una volta prima e era un poco frustrante perché è stato quando io stavo vivendo in USA stati uniti e come come si dice la the property owners come le persone che i proprietari i proprietari i proprietari i proprietari no no volevano affittare mi piso per un anno anno bravissimo anche se anche se io dovevo viaggiare per un anno quindi che what happened? che passava? non so che successe letteralmente ma che successe era che dopo sei mesi la persona che stava affittando mio appartamento non volevo continuare affittare mio appartamento quindi dopo sei mesi io non avevo una persona che voleva affittare mio piso quindi è stato affittare mio appartamento quindi è stato affittare mio appartamento perché io sapevo all'inizio che è stato un anno per favore io ho necessito affittare mio appartamento per un anno ma non normalmente è come sei mesi e dopo sei mesi però è un anno però è un anno io ho necessito un anno sì ovviamente io avevo problemi certo assolutamente sì ecco perché fammi vedere se ho capito bene con i proprietari vi eravate messi d'accordo per l'affitto dell'appartamento per un anno e dopo sei mesi solo ti hanno detto no dobbiamo andare ecco dobbiamo rinnovare dobbiamo affittarlo ad un altro e tu ti sei trovato con un appartamento che dovevi lasciare e cercare un altro? no all'inizio prima del mio biaffo negli Stati Uniti ho contattato ho contattato ho contattato ho contattato i proprietari io dicevo che ho bisogno di affittarmi il mio appartamento per un anno perché necessito viaggiare per un anno ma i proprietari mi dicevano? mi dicevano bravo mi dicevano no solamente sei mesi e dopo sei mesi ma più e dopo sei mesi la persona che stava affittando il mio appartamento voleva vivere in un altro lugar o un altro posto e sì era problematico per me assolutamente sì ok sì esatto ti volevo dire ecco no giusto una piccola cosa una piccola parentesi sintattica diciamola grammaticale e tu usi molto lo spagnolo come lingua di referenza no per l'italiano di riferimento scusa quello è spagnolo ancora bene e quindi ecco quando in spagnolo c'è una parola come contactado no che c'è quella ct no ct in italiano quel suono quasi sempre non è una regola fissa ma è una regola diciamo generale ecco quasi sempre diventa doppia t quindi contactado diventa contattato quasi sempre ecco quando quando trovi quel ct quasi sempre in italiano è un doppia t quasi sempre bene e quindi ecco in america non sapevo questa parte della della tua vita ecco che sei andato in america per per un anno no a vivere raccontami un po dove ecco ehm stati uniti o sì noi italiani spesso diciamo america per dire stati uniti solo gli stati uniti diciamo america direttamente è un sinonimo alla fine oppure puoi anche dire usa o direttamente stati uniti vanno bene tutti e tre ecco sì stati uniti quindi ecco come mai sei andato là per un anno dove dove sei dove sei stato raccontami un po sì stavo vivendo in san diego per un anno perché io io studiavo studiavo in la università in san diego infatti inglese e italiano sì sì pensavo che l'italiano dell'università fosse in svezia non a san diego no io 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 sì era in svezia però io 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 leggevo studiavo un corso in stato wow quindi ecco sei andato in america per un anno a san diego e per l'università comunque non come privato per imparare bene l'inglese un anno no sei andato con l'università sì non sei per avere un'esperienza o non sei praticare l'inglese certo no dipende certo però sì sì per me è stata più po' l'esperienza ovviamente è stata bella quindi come come esperienza sì più o meno no all'inizio no come mai come mai raccontami era la tua prima volta che andavi così lontano da casa così giovane immagino no no è sì però ma stavo vivendo all'inizio per la per la prima tre tre mesi con con altre persone e era un grande errore vivere con come tre persone che avevano come dieci a nove anni dieci a nove anni sì diciannove anni wow diciannove anni con tre persone sconosciute sconosciute sì sì wow io davvero odiavo mia vita per le ultime tre mesi tipico tipico è una cosa tipica ecco quando vai con sconosciuti e tutto quanto ma erano sconosciuti americani svedesi o di altri americani americani wow quindi tu eri l'unico svedese ecco l'unico outsider un po' ecco sì nella casa sì wow eh però era perché era come vicino dell'università e mai avevo avevo vivito no lived avevo vissuto vissuto irregolare Erano che era più facile all'inizio, però sì, è stato un errore, ma finalmente dopo tre mesi mi sono trasferito, non so. Mi sono trasferito a un studio appartamento in un'altra parte della città e dopo questo sono stato più felice. Sì, sì, ti piace vivere solo, è molto più facile e più conveniente. Quindi ti sei trasferito in un monolocale, giusto? Sì, come un studio appartamento, come un Kenya. Ok, bene, quindi ecco, a 19 anni, wow, wow, molto molto giovane, ecco, lontano da casa, ecco, le prime esperienze. Come ti sei trovato a livello di lingua? Quando sei andato là, avevi già un livello buono, molto alto e quando sei tornato il tuo livello era più o meno simile o completamente diverso? Ok, 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 era lo stesso, mas o meno. Sì. Mi livello di inglese era come already good? Ancora? Bene? No, era già, già buono, ecco, era un buon livello già. Era già buono quando io viaggiavo negli Stati Uniti o come? Quando viaggiavo agli Stati Uniti o puoi dire quando andavo negli Stati Uniti? Bene, ecco, era già buono e era la tua prima volta in America, giusto? Mhm. Ok, però ecco, ho letto e so per esperienza che gli scandinavi, ecco, hanno un livello di inglese fantastico fin da piccoli, perché guardano tutti i programmi e la televisione in inglese, sai sempre, no? Ed è vero, ecco, come descriveresti il tuo paese a livello di inglese? Eh, sì, sì, è... Un momento. Sto provando, sto provando a vendere il mio computer. Computer? Anche il tuo computer? Anche il mio MacBook e anche il mio PlayStation. Ok, la PlayStation, sì, ma il MacBook non ti serve in Colombia, sì? Sì, però è un MacBook del 2012 e è un po' antico, come si dice, vecchio? Vecchio, sì, sì, vecchio. Vecchio, ora, e è come, aveva, ha più problemi, ora, e anche della sonora della computadora, quando sta, come si dice, playing music? Quando sta riproducendo la musica, la musica, la musica, quindi è meglio venderlo ora quando io posso farlo, credo. Io posso ancora ricevere, ricevere, ricevere soldi ora, no? Wow, ecco, quindi avevo letto questa cosa che il MacBook, no? Ha un mercato dell'usato, no? Ha un valore come usato che non scende mai molto, rimane sempre abbastanza stabile, ecco. Sì, sì, è un buon, come second hand, come un buon mercato di cose usate. Perfetto, cose usate. Cosa usate. Sì, ecco. Sì, sì, e compravo, ho comprato, ho comprato, ho comprato un nuovo computer, computer, due giorni fa. Wow. Sì, e per questo sarà buono, sarà buono se io potevo ricevere soldi per il mio PlayStation e il mio MacBook, che è quasi come gratis, non totalmente, ma è più, non so, barato. Economico, sì. Economico, sì. È comprato come un computer che è più come un gaming computer, no? Wow. Acer Nitro 5, credo. Un Acer, ok, vediamo, 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 vediamo su internet ora, eh. Quindi hai comprato un gaming computer. Perché? Perché vorresti fare con i video, no? Sì, 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 esatto, volevo fare video con la computer, no? Ok, quindi hai bisogno di un computer che funzioni, ecco, con l'editing, editing di video, ok. Sì. Interessante. Anche io volevo iniziare con l'editing, no? E stavo cercando qualche computer, ecco, apposta per l'Acer. Sì. Tu, 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 ok. Che tipo di video? Mi piacerebbe fare molto dei video, anche un po', un po' come te anche, no? Un po' come te sul percorso con le lingue, ma sono molto più io per l'aspetto, sai, di... mi piace molto viaggiare, ecco, no? Un po' quello che farai tu ora, no? Lo farai in Colombia e a me piace molto fare questo aspetto di mini documentari, ecco, mini documentari sui viaggi, sui luoghi, ecco, e soprattutto su tante piccole cose, ecco, mi piace fare dei video. e cercavo anch'io, ecco, un computer così. Wow. Credo che era come questo, o simulare. Sì, sì, io... Però, ma, sì, è un differente processore, è come un... Raisin, non so, Raisin 5 o algo, però, ma, ma, o meno, lo stesso come questo. Sì, ho trovato uno qua, quello, quello che mi hai detto tu, no? E quel tuo link, Nitro 5, 5, ecco, Nitro 5, e ho trovato per 800 euro, giusto? Più o meno, ecco. Più o meno, 800 euro. Wow, quindi ti trovi bene tu con questo... Cioè, riesci a fare video, ecco, a fare tutte queste cose o no? Sì, funziona bene, per questo? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. È come 10 a 6 RAM, è anche importante, no? Sì, sì. Un ssd, non so, hard drive? Sì, ssd noi la chiamiamo. Ssd. Però la parola per hard drive, come si dice? Disco duro, ma non si usa molto, sai alla fine molte parole tecnologiche si usa direttamente l'inglese, disco duro o puoi chiamarlo hard disk o nel tuo caso è una SSD, quindi è un solid state drive, quindi SSD direttamente. In questo c'è spazio per un disco duro, un disco duro normale come Santa, quindi io posso ponere, posso ponere il mio disco duro vecchio, vecchio? Vecchio, 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 che è come un terabyte, no, per avere più spazio, quindi per i miei video, per esempio, di editing, è il mio plan. Ho visto, ecco, infatti ho visto, è a 512 giga di SSD, 16 giga di RAM, è buono, ecco, è un buon computer, ecco. Mi piace anche come design, ecco, perché spesso i computer gaming sono molto, sai, con i laser, con i draghi, con le tigri, così, così. Voglio un computer classico, pulito. Tu preferisci il più minimalistico. Esatto, esatto, ecco, non ho bisogno di quei computer, no, perché dicono il computer gaming e anche cuffie gaming, trovi, trovi cuffie con i draghi, tutto qua. Ma due cuffie, dai. Sì, sì, sì. E quindi, ecco, ecco, un bel computer nero, con dei dettagli rossi, davvero bello, bello, bello. Ecco, allora mi dirai tu, ecco, come andranno le prestazioni, ecco, di questo computer. Che, 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 non so, che è la tua pregunta, domanda. Ecco, mi dirai tu con il tempo come andrà, come andranno le prestazioni, i risultati del computer, questo tuo nuovo, ok? Se va bene, se va male, se preferisci un'altra cosa, se preferisci un'altra, ecco, mi dirai tu. Tu, 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 vuoi, vuoi un update del mio computer? No, 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 ho capito, capito. Quasi, più che update vorrei un feedback, ecco. Ah, della computer, sì. In futuro, esatto, quindi sì. Sì, qua. Credo che... Rice... 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 Vero? Riceverò, 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 mio computer, mio computer, adoro, o come si dice, computer, mio computer. Mio computer, esatto. Mio computer è venerdì, venerdì. Ok, perfetto. Un'altra cosa importantissima per i video, ecco, ora che tu vorrai fare dei video più di viaggio, ecco, e non tanto di lingue, ecco, come farai con la camera o la videocamera? Si, ho comprato un Google, un GoPro 7, no? è come questo per usare. Pongo la mia camera qui. Ho comprato come si dice una memoria, come una carta. Sì, una memoria. Una memoria di 256 gigabyte, no? Sì. Sì, non so tutti per ora, però vedremo. Ok, ho appena visto, ecco, la GoPro Hero 7. Ce ne sono molte, c'è bianca, c'è nera? Ah sì, nera. GoPro 7 nera. E come mai questa scelta della GoPro e non magari una videocamera più più tradizionale? Ecco, perché questa è una action cam, no? Come mai non una videocamera digitale classica? Differente ragione? Sì. Differente ragione? Differente ragione. Differenti ragioni. Ragioni. Per prima cosa, come si dice? Per prima cosa? Ok. Per prima cosa, tu puoi usarla per molte cose, e come è una camera dinamica in una maniera, no? E come è dura, è come... Resistente. Resistente. Credo che sia importante. E sì, ovviamente posso comprare una camera più caro, più avanzato, per fare video più, non lo sai, migliore, o sai? Adesso no. Migliori, ecco. Migliori. Non c'è un più migliore. Video migliori. Esatto. Lo so. Ma... E anche il fatto, the fact, e anche il fatto che è Colombia, quindi non volevo pagare per qualcosa, pagare troppo soldi per una cosa. Per questo... ho comprato un 7 per 300 e non un GoPro 9 per 500 perché è una differenza di soldi non credo che non credo che io devo una camera migliore una camera migliore esatto è sempre migliore con i? no, è migliore 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 dipende se è singolare o plurale ah ok quindi migliore è singolare, migliore e plurale esatto non chiamare migliore come no, non c'è ecco questa cosa e quindi ecco hai comprato la GoPro 7 è un rapporto qualità prezzo buono un rapporto qualità prezzo buono è resistente soprattutto e anche perché sai non attiri molto l'attenzione ah esatto perché è una camera piccola anche non è una di quelle camere grandi così che va in giro ecco con un lenso da come 30 cm esatto ecco una camera piccola più discreta ecco anche perché ecco vai in un posto dove forse i furti sono frequenti ecco non per generalizzare perché l'America è grande ma ho moltissimi amici brasiliani che mi dicono sempre se vai in Brasile ricordati di non camminare mai con il telefono in 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 e quindi c'è c'è questa cosa che mi dicono sempre tutti non devi mai camminare con il telefono in mano quindi io dico io se vado in Brasile sarò la persona meno raggiungibile perché starò con il telefono sempre chiuso in tasca quindi se mi chiami io non ti rispondo se mi scrivi un messaggio io non ti rispondo non ti rispondo mai no è vero che persone che vengono a questo 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 paese dicono questo no e perché è vero è come è pericoloso 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 no non è come vale la pena come worth the risk vale la pena esatto uguale vale la pena sì è una differenza da svezia perché perché in general in generale in general aquí puoi camminare con tu con tu cellulare senza problemi normalmente normalmente no sì 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 non non bisogno no hai bisogno ehm come avere paura sì avere paura in generale in la in la strada esatto con tu cellulare esatto sì sì bene quindi ecco questo cambio e non hai paura ma ecco volevo chiederti tutto questo equipaggiamento no che hai ecco con il computer nuovo con la camera nuova tutto quanto eh a livello di audio hai un microfono anche per la gopro o usi quello della gopro stesso ah sì eh eh la problema con con gopro o le gopro è che eh bisogno di comprare con una media a casa eh per usare i microfoni i microfoni sì bisogno di comprare un un case no una cosa esatto come una casa per usare i microfoni sì bisogno di comprare un case per usare i microfoni per usare però ma non se compro eh si compro un sì se lo compro sì sì si lo compro eh però vedremo eh io tengo eh o esso no eh però è grande è un poco pesante come eh quindi non 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 so eh si io voglio non so bring it tom 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 portarlo esatto portarlo portarlo e però compravo eh tambien come una boia es come un un microfon o mosquito es come un che tu eh come non se put on your shirt metti sulla mailletta ecco metti sulla mailletta metti sulla mailletta mailletta esatto eh però si non posso usarlo con con un google pro sino o un non se un esa media casa o non se si 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 eh pero obviamente ma eh obviamente posso posso usarlo como en mi casa con mi computador e un un differente source de las unida en en combinarlo eh dopo in un programma come iMovie o algo no certo certo eh anche se è un poco frustrante però si 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 beh diciamo bisogna sempre iniziare con qualcosa ecco si con qualcosa bene e io sono un grandissimo fan dei droni dei droni ah dei droni ah a te piacciono sì non 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 è come mai ho pensato molto molto dei droni però credo che è subjuntivo no? credo che possa credo che esatto posso credo che possa avere video video fantastici esatto video e video il video i video video fantastici esatto video fantastici con una buona qualità si puoi puoi fare molto con con un droni no? sì 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 è una differente cosa ovviamente nell'aria nell'aria certo anche se alla fine ho visto che non puoi volare sopra moltissime città solo con un patentino con una patente con un license no? con un license sì puoi volare sopra le città con una patente e con un'autorizzazione del comune non lo so ecco di tutti quanti quindi ecco alla fine compri il drone ma lo devi usare quasi sempre in luoghi isolati no? come mare montagna ecco mai nelle città ecco quindi alla fine dici lo compro il drone ma non lo posso usare molto sì 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 è vero credo che tu tu non sei avevi bisogno di usarlo come all'inizio sì esatto sempre sempre così sempre così quando c'è è una tecnologia nuova bisogna usarla subito prima che venga ecco regolamentata no? prima che sia prima del i gobiano hanno fatto come un reazione esatto esatto è sempre vero così con i droni con con airbnb no? quando quando c'era quando c'era airbnb di tutto sempre così bisogna essere rapidi e sfruttare il momento buono no? quando ancora sei in quel in quel vuoto burocratico che non è né illegale né legale ecco sei in quel vuoto burocratico sì 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 come gray area come si dice area non so grigia sì ecco grigia bene si usa molto diciamo la nuova economia in Svezia come Uber Deliveroo Airbnb tutte queste cose si usano molto in Svezia non sei nunca provato come che tu hai Grab no Uber Uber sì servizi come questo probabilmente sì probabilmente sì sono servizi servizi come questi no però credo che sia troppo troppo chiaro anche in Svezia come tutti no però in generale 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 mi piace usare Grab queste cose in paesi più pobres no normalmente funziona funziona mi gatto sta facendo algo ma io sì io sé che in paesi come in latino america eccetera è normalmente un migliore opzione per viaggiare o trasportare perché è più segura è più segura in generale hai molti rip up dello taxi nel paese hai molte truffe ecco noi diciamo molte truffe ecco molte cose pericolose con i taxi e come è il tuo spagnolo parli un spagnolo molto colombiano già o o no mi spagnolo sì che è spagnolo di colombia sì ecco si è colombiano o no no sé no sé è è è è algo però è è parlato più di tutta la colombia sì però non sé se ho un accento particolare non sé forse nel futuro sarà ma come colombiano sì 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 non sé bene ecco quindi colombiano perché a te piace anche come accento a me piace come accento colombiano io penso che a livello di spagnolo no gli accenti che mi piacciono di più un momento ok va bene continui il gatto sempre sì bene no niente quindi ecco gli accenti più belli secondo me dello spagnolo sono primo posto argentino è molto molto bello ok non è molto chiaro come colombiano no no non è chiaro ma sai com'è dicono che sia un italiano che parla spagnolo capito quindi ecco mi piace molto l'argentino al primo posto al secondo lo spagnolo di Spagna ecco e al terzo posto il colombiano ecco questi sono i tre che mi piacciono di più di tutti quanti ok per me l'accento argentino non è molto claro stavo parlando con la pagina free for talk non se una un paio di settimane fa e a volte era molto difficile intender e credo che come ayer come come parola per ieri come ayer o come ayer è come una e pensavo che 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 tu stai dicendo no posso capire ayer che sì sì un italiano ecco un italiano che parla spagnolo è uguale però ovviamente tu piaccia l'argentino perché l'argentino è il paese è come hai una connexione dell'Italia no come fisicamente e anche come culturalmente l'argentino no sì sì ecco questa è una cosa che noi italiani ecco per esempio quando viaggio in Spagna quando viaggio in Francia in Inghilterra ecco viaggio in paesi dove non si parla quella lingua solo là ma anche in altri posti per esempio vai in Spagna e ci sono persone che parlano spagnolo in Argentina in Colombia in Messico tutti questi posti vai in Francia ed è lo stesso ecco ci sono altri posti in tutto il mondo dove si parla francese in Inghilterra anche e anche in Portogallo ma come italiano mi sento sempre un po' strano perché dico vado in questi posti e fuori dall'Italia non si parla italiano sai è come solo in Italia sai e quindi quando vedo queste piccole cose come gli argentini molti brasiliani anche con le radici con le tradizioni anche un po' con l'accento italiano ecco mi piace sempre ma a livello di Svezia perché questa cosa è ancora meno in Svezia ecco come ti senti c'è qualche mini diciamo mini colonia svedese in giro per il mondo dove c'è un piccolo paese una piccola città dove c'è una forte componente sai una Little Sweden ecco c'è una Little Sweden in qualche parte del mondo o no? no però poi poi trova trova non so trovarlo non so in vacazioni quando stai viaggiando specialmente in posti molti turistici come però per me non mi piace molto perché quando io sto viaggiando non volevo non volevo trovar persone di Svezia non è molto importante per me però io sé è molto comune per gli svedesi gli svedesi gli svedesi andare come in le bari the bars come i bar i bar in posti come islas di Canarias infatti ci sono bari con temi di sueco di Svezia come viking bar e queste cose per me no grazie non grazie sto bene esatto ci sono stato un anno fa a Tenerife ecco e a quelle zone trovavi sempre un pub tipico irlandese un pub tipico scozzese un pub tipico svedese uno norvegese ecco tutte queste cose wow si si e questo questo non mi piace molto come posti come islas Canarias per esempio perché è troppo turistico è demasiado è come periodico svedese periodico svedese in i supermercati esatto e non voglio vedere non voglio vedere questo nel mio viaggio si si no è vero un po' il turismo di massa ecco che non mi piace neanche a me molto perché penso che le Canarie siano bellissime un po' rovinate dal turismo eccessivo ecco di massa sai ci sono comunità di stranieri comunità di inglesi tedeschi italiani svedesi norvegesi ecco che vivono nelle loro comunità chiuse praticamente non hanno nessun contatto con la terra con il luogo con gli abitanti niente vivono nelle loro comunità con la loro lingua con le loro usanze con il loro cibo anche spesso e tutto quanto lo trovo un po' ghettizzante ecco un ghetto un po' un ghetto sì 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 bene quindi che programmi hai per oggi ricapitolando oggi devo come firmare il contratto in la non noce no in evening la pomeriggio per la sera ecco sera 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 la sera la sera e ho tre ho tre lezioni tambien del svedese un poco più tardi sì questo e tu io ho lezioni oggi abbastanza altre quattro ore quattro ore sì quattro ore e oggi viaggerò molto ecco anche oggi andrò un po' in giro per l'Europa per l'America mi piace molto ecco viaggiare virtualmente con questo lavoro bene che tempo fa oggi in Svezia che tempo sì che tempo fa è clima è clima è come non so gris grigio 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 e caldo frido freddo esatto freddo freddo c'è la neve o no? come sempre c'è la neve? no no adesso però non so un paio di giorni stava nevendo neviendo nevicando 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 il verbo è nevicare esatto nevicare snow nevicare sì solamente per un'ora o dos però non 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 rimangava della terra non è rimasta infatti ho letto che nel sud della Svezia non nevica molto non c'è tutta questa neve nevica ma non regge molto alla fine non è come il nord il nord della Svezia solamente a volte che il neve il nevic la neve la neve rimango sulla terra sulla terra ma sì è vero che non è frequentemente che abbiamo neve per non so molto tempo sì però per me sta bene non voglio neve per tre mesi perché è difficile come non so andare o come con transportarte non so esatto sì muoversi ecco muoversi 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 sì esatto bene ecco allora noi ci vediamo penso avevamo detto venerdì no? se non mi ricordo sì venerdì perfetto Pontus bravo anche oggi bravo ecco mi hai raccontato cose nuove ecco che non sapevo ecco allora buon buona firma ecco buona firma e a venerdì sì grazie ci vediamo ciao 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 ecco Grazie a tutti.